Ci sono domande a cui sai dare sempre una risposta? Hai risposto con coraggio nei momenti difficili? Alcune risposte possono cambiarti la vita o cambiare la vita degli altri. E sempre per ogni risposta che dai, ce n'è una che meriti. Oggi Istat ti chiede di rispondere al settimo censimento generale dell'agricoltura per conoscere meglio le tue esigenze e quelle del mondo agricolo. Se ti facciamo domande, è perché meriti risposte. Censimento generale dell'agricoltura. L'Italia che fa crescere l'Italia. Grazie a tutti.